Dottor Gianniletta, l'edizione numero 719, questa della perdonanza, e non può esserci occasione migliore per fare il punto sulla ricostruzione, solo chiederle come sta l'Aquila e quanto lei è ottimista per questa ricostruzione. Nel clima della perdonanza non si può non essere ottimisti, perché da qui l'Aquila trae la forza, non solo della storia e della tradizione, ma la benedizione di Celestino. E devo dire che il fervore che ho visto in città giustifica questo ottimismo. Che non è una formula di rito, ma è la convinzione, la fiducia, la certezza che con la costanza, con l'impegno, con la fatica, anche con le polemiche che sono il sale della democrazia, si possono risolvere tutti i problemi, molti sono stati risolti, altri li risolveremo nei prossimi giorni, e sono sicuro che la fase avviata della ricostruzione potrà conoscere una ulteriore accelerazione e si potrà, magari alla festa della perdonanza dell'anno prossimo, dire che finalmente dopo cinque anni l'Aquila risorge. Possiamo dire, allora, in via ufficiale, la ricostruzione questa volta è partita per davvero? Direi proprio di sì, anche se rimane il tema enorme dell'ulteriore risorsa finanziaria. Per troppo tempo si è fatto finta che si potesse ignorare questo tema, ma non si potrà ignorare. Noi abbiamo fatto un pezzetto in pochissimo tempo, il governo Letta, una delle primissime risposte che ha dato al Paese è stata quella proprio del non far fermare, anzi di accelerare la ricostruzione all'Aquila. Adesso bisognerà reperire ulteriori importanti risorse, una sfida importante per il Paese, non per l'Aquila, per il Paese, per l'Italia intera. Questa era una questione di rilevante importanza, straordinaria, del tutto epocale, non avrebbe dovuto essere gestita tornando all'ordinarietà. L'ordinarietà esalta la burocrazia, l'ordinarietà rende molto più difficile. E tant'è vero che, a mio modesto parere, insomma, tutto ciò che era stato predisposto e preparato durante la fase di commissariamento avrebbe dato la possibilità di correre. Credo che invece il ritorno all'ordinarietà non sia stata la scelta più felice, anzi direi, secondo me, infelice.